Ciao ragazzi, sono il maestro Emiliano Cavallini e oggi insieme alla maestra Leandra Ciao a tutti! vi insegneremo i primi passi per iniziare da subito a ballare la salsa quindi se sei un principiante o una piccola infarinatura questo video fa il caso nuovo mettiamoci subito al lavoro, guardando la video lezione dove la cosa importante è che quando io vi spiegherò insieme alla maestra i passi dovete ripetere tutto quello che io vi dirò affinché riusciremo subito nell'intento di imparare con calma e in maniera corretta i passi che dobbiamo svolgere ci mettiamo in questa posizione e da qui iniziamo a piedi uniti con la gamba sinistra, dite insieme a me, quindi partendo dalla gamba sinistra apriamo il piede sinistro a sinistra e chiudiamo, quindi insieme a me, pronti? apro e chiudo, ancora, apro e chiudo, ancora solo a sinistro, apro e chiudo, come vedete muovo il piede mentre l'altro rimane fermo, la stessa cosa la facciamo con il destro, quindi verso destra facciamo, apro e chiudo, ancora con il destro, apro e chiudo ora alterniamo i due movimenti, apro con il sinistro, chiudo, apro con il destro, chiudo, pronti? via, sinistro, chiudo, destro, chiudo, sinistro, chiudo, destro, chiudo, sinistro, chiudo, destro, chiudo stiamo svolgendo in maniera propedeutica quella che nella salsa si chiama la base laterale facciamolo l'ultima volta, piedi uniti, quindi stiamo facendo la base laterale, ricordalo, pronti? con il sinistro, dice insieme a me, sinistro, chiudo, destro, chiudo, sinistro, chiudo, destro, chiudo perfetto, questa è la prima base che dobbiamo imparare, prima di andare avanti è importante lo dico sempre, in tutte le discipline che insegno, soprattutto per il principale, l'importante è contare, noi ci muoviamo sulla musica della salsa, la musica della salsa è il quattro quarti a otto tempi musicali, di questi otto tempi, che ora dovrai riprendere insieme a me, noi diremo, non ti muovere fermo, uno, dos, tres, cinque, sei, sette, ora impara questa cantilena, uno, dos, tres, cinque, sei, sette, a quattro e otto, non lo contiamo, perché saranno le nostre pause, quindi la conta che perennemente ci accompagnerà in questa video lezione, sarà, ripeti insieme a noi, uno, dos, tres, cinque, sei, sette, ultima volta, via, uno, dos, tres, cinque, sei, sette, ora è importante contare perché la conta riduce del 60-70% la possibilità che tu puoi sbagliare il passo, quindi adesso mentre andiamo a ripetere quella base laterale che abbiamo visto prima, muovendo il sinistro e il destro, devi contare, se conti, impari, se no conti, non impari nulla, pronti, da qui iniziando col sinistro, diremo, uno, dos, tres, al piede destro, andando a destra diciamo, cinque, sei, sette, quindi come puoi vedere abbiamo, un, dos, tres, muovendo la sinistra, cinque, sei, sette, muovendo la destra, conta, facciamolo insieme ancora, cin, sei, sette, dici, un, dos, tres, cin, sei, sette, uno, dos, tres, cin, sei, sette, uno, dos, tres, cin, sei, sette, uno, dos, tres, cinque, sei, sette, ora da qui, superato questo step, andiamo avanti nell'imparare la seconda base, dopo aver sviluppato una base laterale, in maniera orizzontale, è il momento di imparare la seconda base, che viene chiamata base alternata, dove andiamo avanti e indietro, il piede che parte è sempre il sinistro, quindi su questo non ti puoi sbagliare, è sempre il sinistro che parte, dai piedi uniti, andiamo in avanti con il sinistro e chiudiamo, quindi facciamo avanti, chiusura, quindi sinistro, avanti, via, avanti, chiusura, lo stesso lavoro lo faccio con il destro, però andiamo indietro, e quindi a questo punto diremo indietro, indietro, chiusura, quindi abbiamo sinistro, avanti, destro, dietro, dici insieme a me, sinistro, avanti, destro, dietro, pronti? dici, sinistro, avanti, destro, dietro, sinistro, avanti, destro, dietro, sinistro, avanti, destro, dietro, e ricordiamoci la cosa importante che ha detto Emiliano, che è quella di contare, quindi a piedi uniti, ripeti insieme a me, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ancora, adici, 1, 2, 3, 5, 6, 7, lo dobbiamo riportare sui passi che abbiamo imparato adesso, della seconda base, che è la base alternata, andiamo ad avvolgere insieme, ti raccomando, conta, 5, 6, 7, dici, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ti ricordo che il 4 è l'8, non lo diciamo, perché quando siamo con i piedi uniti e abbiamo la pausa, ultima volta, la base alternata, 5, 6, 7, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, adesso, arrivando a questo punto, iniziamo a sviluppare queste prime due basi sulla musica, quindi, alza il volume del tuo telefonino, così userai l'audio nostro originale, e prima di mettere la musica, ti diciamo che uniamo le due basi che abbiamo imparato, mettendone a due gruppi alla volta, ciò significa, da qui, non ti muovere, guarda, faremo due volte la base laterale, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, per due volte si intende che completo due volte, sinistra, destra, sinistra, destra, e due volte la base alternata, avanti e inizio, quindi dopo queste due volte, faremo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, e ricominciamo di nuovo laterale, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, ora prova insieme a noi, e poi mettiamo la musica, 5, 6, 7, laterale, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, avanti e indietro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, avanti e indietro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, ricordo di contare, nonostante adesso vado a mettere la musica, quindi suve il volume, 5, 6, 7, via! 5, 6, 7, via! 5, 6, 7, via! 6, 7, via! 6, 7, via! Perfetto! Adesso, una volta che abbiamo sviluppato e imparato quei due basi, andiamo subito a imparare la terza e ultima azione, che va a completare le chiavi per mettere in moto la nostra salsa. è la base cruzata, la base incrociata, partendo sempre di sinistro, dici insieme a me, partendo con sinistra, dici incrocio indietro, incrocio indietro, incrocio indietro, incrocio indietro, incrocio indietro, la conta non cambia, ti accompagnerà sempre, nel momento in cui tu vorrai proseguire, imparare altre cose, nel tuo percorso di salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ripeti insieme a me, 1, 2, 3, 5, 6, 7, quindi portiamo la conta nella base cruzata, quella che stiamo facendo adesso, pronti? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 8, e anche qui abbiamo sviluppato due volte la base cruzata, quindi tu a questo punto è imparato, tre basi, base laterale, no, di muovere, guarda, base laterale, 1, 2, 3, 5, 6, 7, base alternata, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sarete poi davanti e indietro, terza e ultima base, base cruzata, 1, 2, 3, 5, 6, queste saranno poi le basi che svilupperanno poi il ballo di coppia, perché la salsa è un ballo di coppia, ma per imparare, dovrai chiaramente, necessariamente prima, imparare le basi singolarmente, dove poi in coppia si vedrà anche la donna come imposterà queste tre basi, insieme al partner, quindi non è una regola, ma adesso per imparare abbiamo fatto un lotto di due basi complete per azione, ora andiamo sulla musica e mettiamo tutto insieme e ti ricordo, se qualcosa non ti è chiaro, stoppa, torna indietro e riguarda di nuovo la parte che non ti è stata chiara, super volume, Green Tosca Green Tosca Green Tosca Green T六, 6, Sanit voi Per favore che è un giusto in una squadra Perché non abbiamo un giusto in una squadra E non puoi l'amore di 15 giorni Per favore il impresionimento E poi la russa è la loro città Non è ricordato il canto accendere Per favore Dice il ho delirino E non soviamo l'uomo Perché non è un giusto in una riaporto Non c'è un giusto in una squadra Per favore il cibo in una squadra Rosata Rosata Unico Unico Paramo Rosata Rosata Unico Paramo Paramo Unico 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 Se questa lezione ti è piaciuta e vuoi proseguire con il nostro percorso online Contattaci subito a questo numero 348 96 80 738 tramite whatsapp ti invieremo tutte le informazioni Per proseguire i corsi insieme a me Emiliano Cavallini e la maestra alleandra Vi offriremo un percorso di video lezioni dove potrai man mano se sei singolo o in coppia Imparare a ballare comodamente da casa o dove qualsiasi posto dove tu voglia Con chi vuoi da solo con amici con la famiglia insieme a noi Quindi che aspetti contattaci e ti daremo tutte le informazioni per iniziare questo percorso online insieme a noi Ti ringraziamo per l'attenzione alla prossima